per esprimere la vergogna e anche l'indignazione di sentire voci così vergognosamente arretrate in questo Parlamento quando si esprimono a proposito delle donne. Voglio dire però che è una sconfitta per noi che chiudiamo la legislatura ancora una volta col solito film. Il Parlamento chiede ma la Commissione, lo ammetta Commissaria Iurova, e il Consiglio non ci sentono di fronte a questa macroscopica assenza di donne nelle istituzioni finanziarie. E devo dire che ciò che è in gioco non è un astratto principio di equità, che pur varrebbe la pena di difendere perché a volte i principi hanno il loro fondamento anche se astratti, ma è un discorso proprio di equità ed è un discorso di interesse generale. Io credo che non si tratta qui appunto di un atto di buona volontà, non siamo qui a chiedere questo, o un gesto di attenzione, ma si tratta di riconoscere che la presenza delle donne è inclusiva per le istituzioni, le rafforza, le rende più solide. Voglio solo citare uno studio svolto dalla CONSOB, l'Istituzione di Controllo della Borsa in Italia, che ha effettuato uno studio da cui emerge che le società, emerge chiaramente scientificamente provato, che le società che hanno donne nei consigli di amministrazione sono più capaci di resistere alla crisi e hanno migliori risultati. Grazie, onorevole.